Il parco del dolore, dobbiamo attraversare il parco ragazzi, ma prima si va nell'armeria ad acquistare un po' di armi. Possiamo andare. Noi non sappiamo quanti livelli ci sono a Dead Nation. Questo giò si chiama Dead Nation e non sappiamo quanti livelli ci sono. Raccogliendo la medicina vi fa recuperare l'energia, mentre vi state facendo male nel gioco la medicina vi curate. Ricordatevi che gli zombie sono attratti dalle luci e dalle sirene. C'è da trovare tutti i pezzi della corazza. Ripeto, io non ho paura di questo videogioco survival horror. Ricordatevi che questo è uno sparatutto a tema horror. Io non ho paura e ho il coraggio di giocare a Dead Nation. È stato tutto merito di mio fratello Alex Costa che me l'ha fatto fare. Wow, c'è un altro zombie, questa volta il divoratore. Bisogna ucciderlo perché se inizia a urlare chiama gli altri zombie. E' un vero labirinto questo posto. I posti senza luce sono troppo pericolosi perché non posso vedere da dove arrivano gli zombie. Ogni tanto bisogna fare silenzio nei videogiochi e avere massima concentrazione. Bisogna anche riflettere. Ci salutiamo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.